Bene amici, oggi torniamo sul terrazzo perché parliamo di un prodotto che durante l'unboxing ha fatto un po' di storie vi sto parlando dell'immuno CV19 dell'Italia Marine che è l'igienizzante conforme alle ultime normative contro il covid e la sanificazione a bordo dico che ci sono state un po' di storie perché durante l'unboxing molti mi avete commentato se fosse stato obbligatorio o meno averlo a bordo ma la normativa del MIT, nel momento che adesso, nel momento in cui viene girato il video, sia l'ultima settimana di luglio siamo ancora in fase 2 bis, secondo le normative del MIT, il ministero dei trasporti è obbligatorio avere almeno un detergente sanificante a bordo conforme alla normativa conforme alla normativa vuol dire che bisogna avere almeno il 70% di alcol all'interno del prodotto e che risponda a determinati requisiti che ci sono all'interno del comunicato che vi lascio in descrizione l'immuno CV rispetta tutte queste norme e adesso vediamo come si comporta perché io sono alle 3 del pomeriggio stiamo facendo un test di pura resistenza e compatibilità di prodotto dal momento che è un igienizzante e non è un pulitore e non possiamo verificare se rimuove un virus perché ovviamente non possiamo fare un prima e dopo quello che possiamo fare è affidarci alle certificazioni perché il prodotto è certificato anche l'attestato HCCP e quindi può essere utilizzato anche con alimenti e quindi penso a chi si occupa di charter o a chi comunque va a bordo di barche che non conosce chi c'è stato prima e che appunto magari vuole mangiare può tranquillamente sanificare e stare tranquillo sotto l'aspetto alimentare dicevo facciamo test di compatibilità su PVC in tubolare, sughero, rivestimento in PVC nel mio caso è il Permatec lo conosciamo già vediamo anche come si è comportato sono ormai quasi 4 anni che ce l'ho con me e tavola di tech, tavola di tech perché sono molto curioso della compatibilità con i commenti è uno dei dubbi che ho sempre avuto perché appunto col caldo sono le 3 del pomeriggio ci sono 29 gradi è diciamo il momento peggiore per applicare un prodotto quindi lo testiamo vediamo come si comporta e se ci sono problemi di compatibilità dunque il prodotto è questo qui come l'abbiamo già... dunque questo è il flacone ne parliamo tra un istante perché inizio a sbloccarlo e spruzzarlo proprio perché il prodotto deve agire e deve evaporare ne spruzzo un bel po' per vedere la compatibilità con i commenti che sono caldi e quindi vediamo come si comporta nei prossimi minuti adesso ve lo faccio vedere, qui c'è appunto l'etichetta, ci sono le indicazioni di utilizzo quindi praticamente va bene per tutte le superfici uso nautico, domestico e civile, abbiamo detto è al 75% di soluzione idroalcolica c'è il bollino HCCP ed è fondamentale come vi ho appena spiegato dietro ci sono tutte le spiegazioni di utilizzo e di controindicazioni o controindicazioni l'azienda chiede di stare un po' attenti ai legni cuverniciati a cera perché la miscela idroalcolica può rimuovere la cera e quindi lasciare dei segni come delle chiazze chiare quasi di bruciatura sul legno quindi fate attenzione a quando andate a trattare i legni soprattutto all'interno della cabina perché spesso magari non sappiamo che cosa hanno utilizzato i cantieri o chi ci ha fatto il rimessaggio sul nostro legno e quindi è bene fare una prova preventiva io continuo a spruzzarlo sia sul rivestimento Permatec che tra l'altro comunque si è comportato molto molto bene è ancora flessibile, col caldo si è ammorbidito quindi non si è più cristallizzato come durante l'inverno lo vado a spruzzare sul tubolare in PVC che è sporco quindi ancora di più ho un test ancora più rigido perché io non avendolo trattato non so se c'è dello sporco che può avere problemi di compatibilità nei confronti della gomma o comunque della soluzione idroalcolica infine mi prendo il rivestimento in sughero che si è irrigidito guardate col caldo è diventato un'unica tavoletta molto poco flessibile e gli vado a spruzzare anche qui, anche qui sui commenti quindi vediamo come va il prodotto ha un odore tipico dell'alcol perché essendo HCCP l'azienda non può utilizzare dei odori, dei profumi perché essendo a contatto con gli alimenti potrebbero contenere o degli allergeni o comunque creare un po' di problematiche nell'uso appunto alimentare quindi per questo l'HCCP ci dà la sicurezza da un lato e dall'altro comunque dobbiamo sopportare un po' questo odore un po' più intenso di alcol che però sfuma in pochissimi secondi già adesso io non lo sento più andiamo a vedere che sul legno non ci ha dato nessun problema di commenti perché appunto non sono appiccicosi e si è evaporato senza nessun problema anche sul pvc guardate sembra averlo anche un po' pulito perché ovviamente il permatec io non lo lavo da due anni e mezzo più o meno no il permatec l'ho utilizzato, l'ho ripristinato circa un anno fa post lavori, c'è il video ve lo lascio in descrizione rispruzzo ancora un po' e me lo stendo proprio per vedere se mi porta dei colori all'interno ma vedete solo un po' di sporco non mi dà difficoltà adesso aspettiamo che evapori guardate e già l'ho testato un po' di tempo non mi ha dato nessun problema sul permatec il sughero sembra impiegarci un po' di più ad evaporare perché essendo poroso il sughero può diciamo incanalarsi all'interno della porosità e quindi dobbiamo aspettare un po' più di tempo proviamo a stenderlo un pochino guardate è già si sta schiarendo quindi una volta rimossa la porzione superficiale non abbiamo problemi pvc anche qui molto sporco il panno mio è già sporco e quindi non vi preoccupate se lo trovate anche questo annerito però guardate nessun problema di scolorimento neanche con le alte temperature quindi possiamo stare molto tranquilli unica contraindicazione io ho effettuato un test chi mi segue su instagram già l'ha visto già l'ha visto nelle mie stories perché appunto pubblico sempre le anteprime nelle stories ho testato il prodotto sulla vernice repaint e guardate che è successo questo era il tubolare ritrattato con repaint che avevo trattato a inizio febbraio nessun problema della vernice però l'ho applicato l'ho trattata con l'immuno cv e guardate si è tolto letteralmente la vernice questo perché io non sapevo che repaint fosse sensibile all'alcol quindi è stato un errore mio di applicazione perché non conoscevo che la superficie trattata fosse rimovibile con alcol quindi l'ho applicato tranquillamente e si è rimossa ho contattato repaint e mi hanno spiegato che comunque era già previsto questo effetto collaterale quindi diciamo è stata una mia carenza quindi questo per dirvi che state molto attenti quando ritrattate una superficie ossia se è un tubolare riverniciato, se è una cuscineria ritrattata comunque non originale non un tessuto nativo dalla fabbrica fate sempre un test di prevenzione e di effetti collaterali quindi facciamo una piccola prova nascosta ma questo vale non solo per l'immuno cv ma per qualsiasi prodotto dalla pulizia, dal ripristino, dalla carteggiatura comunque facciamo sempre delle prove di compatibilità prodotto quando non conosciamo la superficie che cosa ci è andata sopra quindi nessun problema andiamo a vedere l'azienda fa l'altro prodotto che è mani e mascherine va semplicemente applicato sulla mascherina la impregniamo di fatto e la lasciamo evaporare anche questo ha un odore alcolico per chi ha la certificazione HCCP se non amate questo profumo, questo odore che comunque sfuma nel giro di 1-2 minuti quindi nessun problema soprattutto con le alte temperature l'azienda ha fatto la linea biopuro che è quella appunto tripla certificazione biodegradabile, vegan, con nessun problema ha anche un bel profumo più al sapore di limone per intenderci con un odore di agrumi quindi un po' più piacevole all'olfatto potete spruzzare questo sulla mascherina e sulle superfici e non avete problemi ovviamente questo non ha la certificazione HCCP perché come già vi ho spiegato ci sono delle profumazioni aggiunte quindi di fatto non può rispettare il protocollo HCCP l'azienda fa anche il terzo prodotto della linea Immuno CV l'abbiamo visto durante l'unboxing che è quello dedicato ai climatizzatori e ai condizionatori non ce l'ho qui con me perché l'ho dato ad un amico per testarlo io non ho un condizionatore a casa e gliel'ho fatto testare a lui ciò che mi ha riferito è che non ha avuto nessun problema anche in quel caso l'unica cosa è che avendolo spruzzato nella ventola di aspirazione dell'aria all'esterno per appunto purificare il canale che immetteva l'aria dentro la casa all'in primo minuto, primo sempre uno o due minuti si sentiva molto l'odore di alcol ma poi dopo nessuna difficoltà quindi è utilissimo anche e soprattutto nei luoghi chiusi e anche nelle cabine dove io non so chi ci è andato a dormire prima sempre mi rivolgo all'ottica professionale ma anche semplicemente in casa abbiamo degli ospiti a bordo nessun problema da questo punto di vista almeno sappiamo che abbiamo utilizzato un prodotto conforme alla normativa con protocollo HCCP e che quindi non stiamo usando uno di quei prodotti fatti in casa in cui magari i dosaggi sono sbagliati e che non rispettano tutte le norme quindi cari amici per ora abbiamo concluso abbiamo visto che l'immuno CV soprattutto quello universale non ci dà nessun problema sulle varie superfici l'unica controindicazione è stati attenti alle superfici ritrattate come già abbiamo visto come nel mio caso con Repaint spero di essere stato un po' da avanguardia quindi di evitare problemi in futuro a chi lo utilizza in maniera più impropria e quindi magari non fa un piccolo test di compatibilità io ve lo consiglio sicuramente perché soprattutto in ottica controllo verifichi a bordo è sempre bene stare tranquilli dal punto di vista delle normative ed evitare alcune sorprese visto che negli ultimi giorni stanno un po' cambiando le cose abbiamo visto appunto la situazione dell'isola di Ponza che ha vietato gli sbarchi alle persone che non sono dell'isola e quindi cari amici abbiamo concluso questo è l'immuno CV19 universale vi abbiamo visto che è davvero universale non mi ha dato nessun problema di compatibilità con le superfici però voi comunque fate sempre uno spot test cioè un controllo in un punto nascosto se non conoscete bene la superficie che avete trattato io l'ho provato appunto con Repaint avete visto che mi ha dato un po' qualche effetto collaterale ma è stata una mia carenza non sapevo di questa debolezza tra virgolette di Repaint che fosse sensibile all'alcol comunque io il prodotto lo porterò come a bordo lo terrò sempre con me all'interno dei gavoni perché appunto in ottica controllo possono chiedermi ormai rientrerà di fatto tra le dotazioni di bordo di avere un prodotto adeguato alla normativa quindi lo lascerò come ed è anche utile il protocollo HCCP proprio perché nel caso in cui dovessi sistemare delle stoviglie, delle forchette, qualsiasi cosa sono tranquillo che lo posso utilizzare e non ho problemi quando andrò a mangiare all'interno di quel piatto ve lo consiglio sicuramente perché non ha neanche bisogno di risciacquo quindi è semplicemente pronto uso bisogno del panne microfibra, lo stendo e poi sto a posto così la linea bio come vi ho detto ci sono anche diversi formati tra cui anche quello tascabile piccolissimo con forma gel come il classico diciamo la classica mucchina che tutti conosciamo però non mi dà secchezza come la mucchina quindi io mi sono trovato molto bene ha un bellissimo profumo a questo punto anziché avere quell'odore intenso preferirei utilizzare uno del genere che è anche appunto la triple certificazione che dire per ora abbiamo concluso se il video vi è piaciuto mi invito a mettere un like a iscrivervi ai miei canali come sempre a taggare le persone che pensate possano essere interessate e per tutti i prossimi video ci vediamo sempre sul mio canale grazie a tutti grazie a tutti